Noi siamo in Tragodia ed è un vero piacere essere stati invitati qui. Grazie a tutto lo staff per questa bellissima manifestazione. Il prossimo pezzo è dal nostro disco Myth Maker. Questa è A Temple in Time. Si può saltare qui, eh? Mi dicono. Noi siamo in Tragodia. Noi siamo in Tragodia. Noi siamo in Tragodia. Noi siamo in Tragodia. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti